Devo dire che abbiamo fatto una settimana di un lavoro importante e tutti hanno reagito in maniera particolarmente brillante. Stanno tutti abbastanza bene, è chiaro che c'è qualcuno che ha sofferto un po' di più il carico di lavoro, ma la grande disponibilità, ma la grande motivazione. Uno può dire che state preparando un mondiale, a prescindere ci deve essere una grande motivazione. Però avete assistito agli allenamenti, li state seguendo, quindi c'è un lavoro meticoloso, c'è un lavoro duro e quindi ci vuole una grande forza di volontà. Era quello che noi volevamo dai giocatori e le risposte sono buone. Grazie